Buon martedì 28 luglio. Alcuni anni fa con Vanna Cerrato, con la quale ho collaborato in questi decenni nel cercare di dare impulso alla visione ecologica sociale antropospirituale applicata alla cura dell'anima attraverso il sistema dei club, questi club di ecologia sociale ma anche attraverso un insieme complesso di azioni di natura terapeutica e culturale. Ebbene di fronte alla difficoltà che si incontra ogni volta che si cerca di superare un ostacolo che sembra insuperabile abbiamo coniato un'espressione un po' bizzarra, agire serenamente impotenti. Può sembrare una contraddizione, una forma quasi paradossale, però questa frase continua ad accompagnarci, a volte anche a tormentarci. Perché riconoscere l'impotenza, se è il tratto caratterizzante di un'azione virtuosa nei confronti delle difficoltà della vita, a volte però è anche una condizione che rischia di diventare paralizzante, sentirsi impotenti di fronte a una realtà che sembra assolutamente inamovibile, caratterizzata da ingiustizie sociali, da catastrofismi immaginati e reali naturalmente sul piano ambientale. Ebbene tutto questo hai l'impressione che tu non è che puoi fare un grande, che ti fa sentire impotente, ma anche uno stato d'animo che non ti lascia in pace, che continua a perseverare nonostante i tentativi che hai fatto, che magari altri cercano di sollecitarti curandoti, ebbene tutto questo genera una condizione di paralizzante impotenza. Invitare ad agire quando si riconosce l'impotenza non è un'operazione semplice, ma soprattutto la difficoltà sta in quella parola in mezzo alla frase, il serenamente. Perché il serenamente diciamo che dà un colore, un tono emozionale all'agire tale per cui anche se quell'agire non produce risultati sorprendenti, straordinari, o non si riesce a raggiungere quello che si voleva raggiungere, nonostante questo però si resta sereni, che non è una rassegnazione, se no avremmo usato un altro termine. Sarebbe stato agire rassegnati nell'impotenza, no, assolutamente no, la serenità, coltivare la serenità. E in questo tempo in cui dopo l'allarme epidemia, in questo momento sta scattando l'allarme, giustamente sottolineato, crisi economica, che già abbiamo conosciuta nel passato, è difficile essere sereni, anche perché la politica negli ultimi decenni ci ha abituato a soffiare sul terreno infido della rabbia, della insoddisfazione, dell'insicurezza, ingredienti straordinari per costruire la torta dell'autoritarismo, poi da somministrarci in larghe dosi, perché rabbia e insicurezza sono i due elementi che cancellano quella serenità dell'animo che è anche con la consapevolezza che per quanto noi ci impegniamo rimarrà sempre qualcosa da fare. Ripeto, e lo ripeto volentieri, non significa accettare tutto quello che accade, o meglio ancora, non significa rassegnarci a quello che accade. E se lo accettiamo, lo facciamo se la cosa che sta accadendo è sgradevole, lo facciamo per superarla. Però il punto fondamentale che deve caratterizzare la nostra realtà coevolutiva con l'ambiente, con la storia, con la politica, con l'economia e con l'ambiente nel quale noi siamo immersi e siamo allo stesso tempo in qualche maniera ambiente nei confronti del prossimo, tutto questo, se intriso di una serenità coltivata, ci può permettere di accogliere l'impotenza come seme fecondo, non come punto di chiusura in noi stessi, in una prospettiva solipsistica, verrebbe quasi da dire psicotica o autistica, ma non voglio utilizzare categorie psichiatriche. Il solipsismo è una matrice culturale, antropologica, che spinge le persone a concentrarsi solo su se stessi e vedere il mondo come una realtà che ci fa paurare, e la paura naturalmente genera insicurezza. A quel punto il gioco è fatto per chi ha una propensione autoritaria e soprattutto per chi pensa di poter costruire un mondo che è abitabile solo dalle persone che hanno coltivato la potenza o si sentono potenti. Ritorno pertanto sull'agire serenamente impotente in questi giorni in cui intravedo all'orizzonte tante forme diversificate di rassegnazione triste, di stati d'animo ambivalenti, altalenanti, che poi incontrano moltiverso delle categorie psichiatriche o di stati d'animo che cercano correttivi del tutto inutili nelle forme molteplici delle autointossicazioni. Nel momento in cui la persona si sente impotente ad agire si fa agire da scorciatoie che inebriando, intossicando, sedando, ti permettono non di agire ma di sopravvivere in una condizione di autoassoggettamento. Cioè tu a un certo punto, visto che non ce la fai, ti cerchi scorciatoie, che possono essere sia comportamentali che chimiche. Cominci a rivisitare il rapporto che tu hai con la realtà che ti circonda, ti dichiari rassegnato impotente e cerchi in qualche maniera di liberare il senso di tristezza che ti attraversa trovando dei momenti un pochino euforici o comunque sedativi. È chiaro che tutto questo porta inevitabilmente a un rischio che è duplice. Da una parte quello di rinunciare all'essenza della vita che è l'agire, ma è un agire sempre, se stiamo nell'essenza della vita, con cuore libero, con mente sgombra e leggera, con un costante punto di vista fondato sulla speranza e anche sulla provvisorietà delle nostre azioni, sul fatto che magari i risultati, ripeto, non li otteniamo, ma non ha importanza, noi non siamo qui per raggiungere risultati, ma per dare il nostro piccolo contributo magari a risultati che si otterranno tra qualche generazione. Quindi cerchiamo di sgombrare la vita da tutta questa tristezza che tra l'altro nella parte più ricca del mondo diventa per certi aspetti anche piuttosto grottesca. Pensate che cosa dovrebbe fare una persona che nasce contemporaneamente ad un'altra e sono destinati a due ambienti, a due realtà nelle quali in una è quasi sicura la deprivazione economica, culturale, la destinazione alla povertà e nell'altra ci sono buone probabilità, non dico di diventare ricchi, ma sicuramente di essere accuditi anche se non ce la fai economicamente. Tutti i ragionamenti che oggi si fanno sull'economia dovrebbero tener conto questa visione possibilmente globale e se noi cominciamo a riattraversare la globalità della nostra esistenza tenendo presente che cosa accade contemporaneamente in tutti gli altri punti della Terra, allora sì ci sentiremmo in un sistema vitale che ci invita ad agire senza pretese, senza deliri di onnipotenza e ci porta a coltivare, compazienza e perseveranza, un modo di vivere che ha molte ragioni per poter essere sereno nonostante tutto. Ma la serenità non è un tratto istintuale, non è qualcosa che viene prodotto per chissà quale arcano motivo, è qualcosa che è nelle nostre mani, qualcosa che dobbiamo coltivare, un po' come l'empatia, qualcosa che si impara e la serenità la si può imparare soprattutto coltivandola e agendo nei momenti più difficili nei quali ci sentiamo particolarmente impotenti. Questo è una modalità che io vorrei consigliare, a me non piace dare consigli ovviamente, ma piacerebbe consigliare a ciascuno di noi, ogni volta che ci troviamo in difficoltà, ripescare quella frase, agire serenamente impotenti, sondare fino in fondo gli elementi di disastrologia che stiamo coltivando dentro a noi stessi e volgere lo sguardo alla difficoltà, alle crisi, svelando un sincero sorriso e uno sguardo che è incline alla speranza da coltivare. Proviamo a farlo e non sarà facile ma io penso che ne valga la pena perché se agiamo serenamente impotenti potremmo sicuramente vivere in modo migliore anche di fronte ad ostacoli insormontabili ma che naturalmente possiamo comunque sempre aggirare, tenendo presente che noi non siamo gli unici attori sulla scena della vita, siamo in buona compagnia e dobbiamo insieme coltivare la dimensione della speranza. Buona giornata a tutti.